A Battipaia attivisti di comitati e associazioni, ambientalisti e semplici cittadini danno il via alle ronde notturne, alla ricerca delle sorgenti dei miasmi che da decenti di mesi estivi appestano l'area in città. Come riporta la città di Salerno, in queste sere sotto la guida del comitato Battipaia di Cenò, un gruppo di volontari muniti di maschere e striscioni si è messo in giro per l'area industriale, scattando delle fotografie davanti ai cancelli dell'impianto di trattamento per i rifiuti di via Bosco 2 e di quello per il compostaggio della frazione organica nel comune di Eboli. L'incubo di rivivere quello che si è già vissuto lo scorso anno e negli anni precedenti è sempre presente. Si tenta quindi di correre ai ripari in anticipo.